Nelle composizioni coloriari la colla a silicone viene utilizzata per applicare particolari particolari che servono a creare poi la composizione ad abbellire un oggetto prima bisogna scaldare la pistola finché la colla non è pronta quindi si prende l'oggetto che si vuole incollare basta applicare un piccolo strato di colla all'oggetto e posizionarlo dove si vuole proseguendo possiamo dimostrare come si può adbellire l'oggetto in questo caso stai usando dei petali di rosa finta? di rosa finta beh si possono utilizzare anche dei petali di rose vere abbiamo ottenuto una piccola decorazione sull'oggetto grazie 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 grazie